buongiorno ragazzi oggi abbiamo deciso di portarvi in un allenamento un po diverso da solito infatti abbiamo deciso di andare alla rest di varallo e ci sarà da pedalare circa mezz'ora su asfalto tutta spinta fin su in cima io non l'ho mai fatto sto giro mio fratello sì e niente dice che la discesa sarà abbastanza impegnativa vedremo dopo praticamente noi dobbiamo arrivare sulla in cima adesso non so non so se si vede bene ma è la che puntiamo ad arrivare cominciare il pezzo a spinta niente invece in spalla sì 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 ecco faccio la cima sento un po il polpaccio bruciare quasi arrivati manca poco l'ultimo sforzo siamo arrivati in cima ce l'abbiamo fatta 1 ora e 40 in tutto peccato per queste nuvole perché se no il panorama sarebbe stato veramente veramente fantastico però è bello comunque dai adesso ci aspetta che la discesa so steep dai oh 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 meno male che abbiamo il video ottimo sì 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 Wooo! sono andati la macchina abbastanza provati ci abbiamo messo in tutto due ore e mezza e niente ci sono 14 km ma belli tosti i 14 km più duri della mia vita ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi